Che importanza assumono all'interno del suo istituto? È fondamentale. Si tratta di aprire la scuola al territorio, di dare il nostro contributo per la realizzazione di un patrimonio artistico, culturale e storico che abbiamo a 300 metri dalla nostra scuola e che molti cittadini e molti nostri allunni neanche conoscono. Per questo abbiamo investito delle risorse, abbiamo messo a disposizione l'entusiasmo dei nostri ragazzi e quindi questa iniziativa in collaborazione con il municipio si sta realizzando proprio per dare un piccolo impulso alla partecipazione e alla crescita culturale di tutto il quartiere e dei nostri ragazzi.